ma a sto punto perché non fanno i microfoni a forma di cazzo con una telecamera incorporata così fanno l'asmr dei bocchini con trachea in full hd o vi mostro le mie ovaglie la mia vaginale il mio utero asmr in full hd però tanto che è la marina ma c'è da municipio rallenta municipia come smulti la macchina municipio rallenta non so se fa così il conto mamma mia mamma mamma freke mamma freke senti rino ha visto ma che cazzo sta combina rino visto che tu sei in mezzo fanno banna e fazione diretta con il cibo tutto quasi noia noia ma come i premi lucarello e cominci a scendere a scendere non a precipitare freke freke che butti lo sangue non può con te due non può con te due freke non può con te due ma quello la beccia stiamo niente a quel piede questo è il piede questo è il tallone non riesco a muovermi non so perché no te lo giuro non riesco a muovermi sono paralizzato ma lo faccio citato un interrogatorio basta che bilato a suo sacco proprio per favore non riesco a respirare c'ho la tachigardia eh non vedo niente, come diceva mia moglie mi accolta entro? prego prego proseguo? certamente ok la prima a sinistra eh che è sta roba? quella lì esatto hai capito perfettamente con la maschera ottimo l'abbiamo appesa per fare paura qualcosa di dolce gli dica qualcosa vaffanculo a mamma dan benito e con questo addio benito no 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 ci vediamo dopo si deve fare qualcosa prendi tutto tuo avvocato eh io non ho accesso oh oh una tastagna una rosa un dico un dico ma 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 che è? fucker oh gente mamma ragazzi mi ha giù cagato mi è comparso dal nulla davide schiva i cori grazie 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 Qua mi faccio una roccia e qua mi faccio un piccone così poi lo posso picconare, capito? Così. Tacco ce la diamo lì staccata, se sarà una staccata fuori monta stacca tardi Rossi o stacca presto Lorenzo, stacca tardi Rossi e si infila. Si infila e si mette davanti, 43 e 9, erano scesi di nuovo sotto il 44, si rimette davanti Valentino, prova a dare un altro tirone a Lorenzo. Chiedo scusa a tutti quanti coloro che guardavano la live senza cuffia. Già io me lo immagino che stavano con lo telefono così. Che figura di merda. Ma nel momento qua ci mi faccio un bocchino Spider-Man. Voglio essere la tua perigene, capatelo Peter. La mia influenza è questa. Capatelo vecchia perigene. Capatelo capatelo. Nice. Ci vediamo dopo. Ma se è naturale no? Che significa che c'è scritto qua naturale? C'è scritto naturale. Che cazzo è naturale? No. Hai mai avuto rapporti sessuali mentre i tuoi genitori erano a casa? Cosa ti posso dire? Mmm. Lo rifaccio dai. Buonasera ragazzo, benvenuto in questa nuova live su Twitch di David House. Questa sera vi presentiamo lo Wipe dell'U4.0 con l'avvento dell'U5.0. Vi aspettiamo tutti quanti quanziosamente nel canale. Vienecelo, grazie. L'ho preso quasi tutti. Ho fatto uno io eh. Ma che cazzo è questo zombie qua? Staccatelo. Staccate un zombie. Ma dov'è? Un zombie, staccato. Che fedo. Approximately ten hours later. Amazonio, sei salito? Vai. Allora, via. Parti, parti, parti. No, Amazonio no! No! Amazonio no! No! Ci vediamo dopo! Vieni, venite, venite, venite. Scendiamo a piedi, scendiamo a piedi. Ma si deve scendere. Memmino, Memmino. Non si prende danno, non si prende danno, non si prende danno, non si prende danno. Come no mamma mia, sono rimasto qua uno, ti dico? Allora, 3199005. No, no, no. Un palazzo, un palazzo! Oh, no! Ma non c'era quello... Ma non c'era quello... che vuoi abblare qua? Ma è quello, ragazzi, è due volte quello che abbiamo fatto. Ma... Sto sudando! Oli, vieni, non lasciarci! Vieni! Stupato, le stupato! Ma... Pfff! 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 Fa schifo, eh! Ah! 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 potrà essere se fanno un po più soldi di me in un altro visto però per farli dobbiamo metterci nude perché vestite non riusciamo a farli capo da cazzo pur se mi è venuto in un buon 5.000 pure che c'è una cosa tesoro mio ma che vuol dire ma non è giusta come idea ci vediamo dopo